Arriba finalmente la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot, l'atteso action RPG che ci racconta tutta la saga di Dragon Ball Z. Ma sarà davvero il gioco che i fan aspettavano? Scopriamolo insieme. Dragon Ball Z Kakarot ripercorre l'intera trama di Dragon Ball Z, dall'arrivo dei Saiyan sulla Terra alla battaglia con Majin W. La storia è raccontata attraverso dialoghi e cinematiche che nella maggior parte dei casi ricalcano e riassumono quanto visto e ascoltato in tv. È possibile scegliere tra il doppiaggio in inglese e quello in giapponese, mentre la colonna sonora ripropone le musiche originali e moltiplici arrangiamenti. La mappa permette di esplorare tutto l'universo di Toriyama, con località iconiche come West City, l'arcipelago in cui risiede la Kame House, e i boschi sopra cui si ergono la torre di Karin, chiamato Korin, all'interno del gioco, e il Santuario di Dio. I fan di Dragon Ball riconosceranno immediatamente i luoghi in cui si sono svolti i momenti più famosi della storia, spesso contrassegnati da cartoline che li ricordano con una scena dell'anime e che rientrano in una sconfinata lista di collezionabili da trovare e raccogliere. Cyber Connected 2 ha tinto all'immaginario di Toriyama per riprodurre un mondo coeso e ricco di dettagli, seppur meno interattivo di quanto avremmo voluto. Non è un open world a tutti gli effetti, ci si può spostare da una regione all'altra, se contigue, ma nella maggior parte dei casi si deve accedere alle varie aree dalla mappa del mondo. Fin dall'inizio ci si ritrova comunque a svolazzare liberamente per il mondo e a tuffarsi nei fiumi e nei laghi, mentre si raccolgono le sfere Z disseminate ovunque, le medaglie D nascoste a decine in ogni area, i minerali e la frutta. Si può pescare presso gli appositi puntili con un semplice minigioco, andare a caccia di selvaggina e dinosauri, persino partecipare a gare di Overcraft una volta sbloccata la patente di Goku tra la saga di Freezer e quella di Cell. Ci sono tante cose da fare e da vedere, ma il mondo, per quanto colorato e particolareggiato, serve soprattutto a prolungare l'esperienza, con collezionabili nascosti e materiali da raccogliere per potenziare i personaggi e sbloccare nuovi contenuti. Il tocco di Toriyama si sente anche nelle storie secondarie, che di tanto in tanto affiorano sulla mappa del mondo. Contrassegnate da punti esclamativi azzurri, queste missioni facoltative sono temporanee e scompaiono se si prosegue troppo con la campagna principale. La maggior parte ruota intorno a vecchie conoscenze e arricchisce la narrativa con le vicissitudini di questi personaggi. Potremmo così ritrovarci a cercare materiali per riparare il simpatico androide Otto, o scoprire chi è il sosia di Amcha che fa il donnaiolo in giro per la città mentre quello vero si allena nell'aldilà col Re Kaio. Queste storie secondarie aggiungono poco alla campagna, ma sono simpatici siparietti che ricompensano il giocatore con punti esperienza, sferezzetta, ricette oppure emblemi. Il problema è che la struttura di queste missioni è molto ripetitiva, non ci sono cinematiche e in generale sembra che siano un'aggiunta meno curata rispetto al resto. Risolvere le storie secondarie diventa però un obbligo morale per il giocatore che vuole spolpare il simpatico sistema delle comunità, scacchiere che permettono di ottenere bonus extra grazie al sistema degli emblemi. Alcune storie secondarie si sbloccano solo completandone altre e rappresentano un sostanziale incremento alla longevità del gioco. Sebbene siano piuttosto ripetitive, i divertenti dialoghi e qualche comparsata inaspettata le rendono più piacevoli del previsto. Il sistema di combattimento ci ha piacevolmente stupito, anche se non è particolarmente innovativo. Abbiamo già giocato diversi Dragon Ball Z in cui gestiamo i personaggi in uno spazio tridimensionale, ma fra tutti Kakarot è quello che risponde meglio a un sistema di controllo intuitivo che riesce a replicare la spettacolare dinamicità delle battaglie viste nell'anime. La base è infatti molto semplice. Con un tasto si attacca in mischia, con uno si sparano le raffiche di energia, con un altro si schiva e un altro ancora consente di parare. Subentrano poi le combinazioni di comandi che danno accesso a tutta una serie di manovre più complesse, come schivate che rallentano brevemente il tempo se eseguite al momento giusto, contrattacchi teletrasportati, combo e tecniche speciali che il giocatore può apprendere, potenziare e assegnare a specifiche scorciatoie. Ogni manovra o tecnica speciale consuma l'aura, che potremo ricaricare in qualunque momento come in tantissimi altri videogiochi ispirati a Dragon Ball. Si impara quindi in pochi minuti e all'inizio il gioco può sembrare fin troppo facile, visto che i nemici delle prime fasi risultano della carne da macello. Il discorso è totalmente diverso invece per quanto riguarda i boss. I boss di Dragon Ball Z Kakarot sono molto più impegnativi e richiedono un minimo di preparazione da GT-R vero e proprio. Può quindi essere utile farsi preparare un piatto da Cici che aumenti le statistiche temporaneamente e ricordarsi di spendere le sfere Z accumulate per potenziare le tecniche speciali, impararne di nuove o sbloccare bonus passivi che ci aiutino a infliggere o incassare più danni. Gli scontri sono uno spettacolo di colori ed effetti speciali che si rincorrono sullo schermo a gran velocità tra esplosioni, onde energetiche e combo rapidissime. La telecamera fatica a seguire tutto e purtroppo capita che si incastri in posizioni scomode, ma in generale l'azione è chiara e leggibile grazie anche agli indicatori visivi che anticipano certi attacchi, offrendoci la possibilità di schivarli. Alcuni scontri hanno persino brevi cinematiche, piccoli quick time event e cambi di prospettiva che rendono i boss più importanti maggiormente sofisticati a livello di gameplay. Non siamo certo di fronte a un picchiaduro, ma questo sistema di combattimento action innestato in un GDR in terza persona svolge il suo lavoro in maniera onesta. Ci sono diverse meccaniche che influenzano i combattimenti, rendendoli più vari anche a livello visivo con personaggi di supporto che possono aiutarci in modo diverso a seconda della categoria a cui appartengono. Possiamo ordinare loro di eseguire determinati attacchi e sfruttarli con un minimo di strategia, oppure sferrare devastanti attacchi coordinati che prendono il nome di combo zeta. È una dinamica semplice ma efficace che contribuisce a rendere ancora più memorabili alcuni scontri. Sebbene ci sia un rovescio della medaglia importante, i lottatori giocabili non sono molti. Ci ritroveremo spesso a controllare Goku, Gohan, Vegeta e pochi altri, mentre i guerrieri zeta minori come Tenshinhan, Yamcha o Krillin restano semplici personaggi di supporto per tutto il gioco. È un gran peccato, soprattutto perché alcuni di loro hanno un ruolo rilevante nel corso della storia. Dragon Ball Z Kakarot è quella che potremmo sostanzialmente definire una catena di boss fight inframmezzate da sequenze GDR che talvolta si prolungano anche un po' troppo. Tra una saga e l'altra si svolgono i cosiddetti intervalli, momenti di libertà in cui il giocatore può comporre il gruppo come vuole, libero dai vincoli della storia e girare per il mondo in cerca di storie secondarie o altre sfide. L'intervallo è il momento opportuno per raccogliere le sfere del drago, che si rigenerano ogni venti minuti e che garantiscono un desiderio. Si possono chiedere sfere zeta o denaro per aggirare completamente il farm, che diventa importante quando dovremo sbloccare le tecniche speciali più potenti e costose, oppure si può sfruttare Shenron per riportare in vita un vecchio boss potenziato e combatterlo un'altra volta. Completata la campagna, questi nemici diventano i principali contenuti extra da affrontare, oltre a un boss segreto interdimensionale e il completamento della sconfinata enciclopedia zeta attraverso la ricerca dei tanti collezionabili sparsi in tutto il mondo. Accessibile dal menu principale, questo libro virtuale è una miniera di informazioni e dati sul gioco e sull'universo di Dragon Ball che un appassionato non potrà fare a meno di apprezzare. Anche il comparto tecnico è buono. Grazie ai virtuosismi dell'Unreal Engine 4 e al Cell Shading, le scene più iconiche della serie animata sono ridisegnate con uno stile molto fedele a quello di Akira Toriyama e un'effettistica al passo coi tempi che impreziosisce quella che fondamentalmente è una produzione con 30 anni sulle spalle. Le scene d'intermezzo con i dialoghi a finestra sono invece un po' meno curate, le animazioni più rigide, e fanno una cattiva pubblicità a un impatto visivo decisamente migliore per la stragrande maggioranza del tempo. I modelli poligonali sono curati, pieni di dettagli e ben animati soprattutto durante i combattimenti, con piccole chicche e come le immagini residue lasciate dai personaggi che potenziati si muovono a velocità sovraumane. Dragon Ball Z Kakarot è insomma davvero bello da vedere, al netto di qualche minuscolo rallentamento che si verifica soprattutto durante i salvataggi automatici o all'inizio di alcune battaglie. È insomma il miglior gioco dedicato a Dragon Ball Z mai realizzato? Beh, se si parte dal presupposto che si tratta di un action RPG pensato per ripercorrere la storia dell'anime, allora Dragon Ball Z Kakarot ha fatto sicuramente centro. Certo ci sono delle mancanze e la struttura è un po' ripetitiva e poco originale, ma nel complesso l'opera è rispettosa del materiale di Akira Toriyama e lo tratta davvero con affetto.